Tornic Rally Show, avviamo la classifica dopo la puntata, la prova speciale, quindi avremo appunto, avremo a vedere quando saranno caricati tutti i tempi, vi daremo la classifica dopo la puntata, la prova speciale, mentre stanno per entrare in vista anche di la R5, come si dà programma per la prima delle prove speciali, alle 9 in 0, 4 a partita, la prima grazie